Quattro prodotti beauty che trovi da Tigotà che devi assolutamente provare anche tu. Questo bronzer di Rimmel è super naturale e si sfuma benissimo. Se stai cercando il fondotinta perfetto, prova quelli della linea 24 ore di L'Oreal. Questo correttore di Rimmel è perfetto se cerchi un'alta coprenza. Se copermetti lucido tantissimo, prova la Stay Matte di Rimmel, opacizza, levica i pori e tiene la pelle mattificata.